Oltre 70 positivi, 17 dei quali studenti. Sono i numeri aggiornati attraverso i report diffusi nelle ultime 24 ore dall'Assessorato regionale alla Sanità e dall'Asdroma 4 relativi al coronavirus nella città di Civitavecchia. Numeri importanti cresciuti esponenzialmente nelle ultime due settimane e che preoccupano sempre di più il servizio. Superata anche quota 70. Come anticipato nel servizio di ieri del TRC Giornale, la situazione relativa al coronavirus a Civitavecchia si fa sempre più preoccupante. Non siamo assolutamente nello stesso contesto terribile vissuto nell'aprile scorso, quando con la presenza di tre distinti focolai, due nelle RSA Madonna del Rosario e Bello Sguardo e uno all'ospedale San Paolo, si era paventata la possibilità che la città fosse dichiarata zona rossa, ma la crescita esponenziale delle ultime due settimane preoccupa e non poco. Degli oltre 70 positivi accertati fino a ieri dall'Assessorato regionale alla Sanità e dall'Asdroma 4, ben 17 sono studenti delle diverse scuole cittadine. Agli 11 che erano stati accertati dopo il primo screening avvenuto la scorsa settimana, prima con il tampone rapido e con il molecolare eseguito soltanto a coloro che erano risultati positivi, se ne sono aggiunti altri sei. Sei nuovi casi che hanno portato all'isolamento di cinque classi in diversi plessi scolastici. Nello specifico, una classe è stata isolata nei seguenti istituti. Alla scuola di infanzia Andersen, alla De Curtis, alla Galice, al presso Collodi, all'istituto comprensivo Civitavecchia 2, plesso Flavioni. Un controllo, quello condotto all'interno delle scuole, che l'Asdroma 4 è stata tra le prime ad avviare in tutta la regione, che sta dando i suoi frutti, considerando che non solo le classi interessate vengono chiuse, ma che vengono isolati i quanti hanno avuto modo di entrare in contatto con i bambini e i ragazzi, risultati positivi. In questo modo è possibile quindi contenere il contagio, ma come ripetuto ormai decine di volte da quando ha avuto inizio questo terribile capitolo della storia contemporanea, il lavoro più importante può farlo ciascuno di noi, osservando le tre semplici regole che vengono costantemente ricordate dagli esperti. Bisogna quindi assolutamente indossare le mascherine, lavarsi frequentemente le mani ed evitare gli assembramenti, mantenendo la distanza di almeno un metro rispetto alle altre persone. Con queste tre semplici ma fondamentali precauzioni, seguite da tutti, sarà possibile evitare un nuovo lockdown. Spunta un giallo dietro l'inquinamento da trialometani nelle zone a monte di Civitavecchia. Così come era accaduto lo scorso mese, in occasione dell'inquinamento batterico che si era riscontrato nella zona di Viale Matteotti, ai cittadini che si rivolgono ad Acea per avere chiarimenti in merito, viene sottolineato che l'inquinamento è assolutamente rientrato. Conferme a riguardo sono arrivate alla redazione del TRC Giornale, attraverso la pagina Facebook dove era stata pubblicata ieri la notizia della prima settimana di acqua contaminata dall'agente chimico, e sia attraverso telefonate pervenute direttamente in redazione. Gli utenti chiedono giustamente di avere informazioni ufficiali da parte delle istituzioni competenti, ovvero ASL e Comune, in merito al perdurare o meno dell'inquinamento idrico. Ricordiamo che il fenomeno interessa nello specifico la zona alta di Via Terme di Traiano, Via Ugo d'Ascia, Via Don Milani, Via Nuova di San Liborio, Via delle Molacce a sinistra di Via Terme di Traiano in direzione di Tarquinia, Via Pascoli, Via Cantù, Via Berlingwell, Via Alfieri, Via Guastatori del Genio e Via del Casaletto Rosso, e che gli utenti di queste zone non possono usare l'acqua per scopi potabili neanche dopo bollitura. Mi sono ricandidato per senso di responsabilità perché in una situazione come quella che si sta vivendo a causa del coronavirus il porto di Civitavecchia ha bisogno di continuità. Sono in estrema sintesi i concetti espressi dal presidente dell'autorità portuale, Francesco Maria Di Maio, che ha voluto inviare una lettera aperta agli operatori portuali degli scali del network. Nella lettera Di Maio non nasconde le difficoltà incontrate ma rivendica anche la bontà dei tanti progetti avviati e degli importanti finanziamenti ottenuti. Mi sono ricandidato per senso di responsabilità perché in una situazione come quella che si sta vivendo a causa del coronavirus il porto di Civitavecchia ha bisogno di continuità. Lo scrive in una lunga lettera aperta rivolta agli operatori portuali il presidente dell'autorità portuale, Francesco Maria Di Maio. Nella lettera Di Maio non nasconde le difficoltà incontrate ma rivendica anche la bontà dei tanti progetti avviati e degli importanti finanziamenti ottenuti. Il massimo esponente di Molo Vespucci sottolinea che non garantire la continuità dell'attuale presidenza rischierebbe di disperdere e di rendere improduttivo un percorso avviato volto a portare nei prossimi mesi a Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta quei finanziamenti, in particolare a valere sul Recovery Fund indispensabili per ultimare talune opere fondamentali per lo sviluppo dei tre porti. Finanziamenti che secondo Di Maio potrebbero poi arrivare per altre iniziative in corso che vengono condotte assieme ad importanti player dell'economia italiana nell'ambito dell'Unione Europea al fine di sviluppare ulteriormente a Civitavecchia la componente green attraverso l'uso di nuove fonti energetiche alternative anche in considerazione dell'ampia superficie del demanio marittimo non data in concessione ai privati. Ancora secondo Di Maio andare in discontinuità ora in uno dei periodi più drammatici vissuti dal porto per effetto del Covid-19 e del calo del carbone destinato alla centrale Enel rischierebbe di disperdere gli sforzi che la sua amministrazione sta approfondendo per risolvere alcune vertenze sindacali e adeguare il complesso sistema dei servizi di interesse generale la cui spesa, sottolinea, è la più elevata tra tutti i porti d'Italia al quadro delle ridotte risorse finanziarie per effetto dell'emergenza sanitaria cercando di mantenere i livelli occupazionali ed un elevato livello dei servizi. Infine un appello all'unità Il porto di Civitavecchia, conclude Di Maio è una risorsa fondamentale per il territorio la regione e l'intero paese per la ricchezza che in tanti anni ha contribuito a produrre anche in termini occupazionali e quindi ha bisogno dell'unità e del lavoro di tutti per superare questo difficile momento e dare completamento ai tanti progetti di sviluppo avviati. È in una fase di stallo il dibattito sul futuro della centrale di Torre Valdaliga Nord se ne parla marginalmente a livello locale e non se ne parla affatto nei piani più alti della politica e delle istituzioni. Ci riferiamo in particolare alla regione Lazio eppure l'argomento sul futuro della produzione energetica in quello che è stato ed è il più importante polo nazionale dovrebbe essere al centro del confronto e soprattutto delle decisioni, il servizio. Idrogeno Zingaretti batta un colpo era il titolo di un nostro articolo di poco più di un mese fa era per l'esattezza l'11 settembre nel quale a fronte del grande dibattito che si è aperto in tutta Italia sul possibile utilizzo di energie alternative al fossile e su conseguenti progetti che potrebbero beneficiare della manna rappresentata dai finanziamenti sul recovery fund si chiedeva alla massima autorità regionale e segretario del secondo partito più importante della coalizione al governo del paese di spendere una parola al riguardo. Una parola che sarebbe stata importante per Civitalecchia una delle città maggiori che si trovano nel territorio della regione e che ha avuto ed ha tuttora un ruolo fondamentale nel sistema energetico nazionale. Ovviamente il colpo non è stato battuto e qualora lo fosse stato nessuno, perlomeno da queste parti, lo ha sentito. Ma il discorso non riguarda ovviamente Zingaretti come persona e soprattutto come esponente politico riguarda la regione come ente sovrano che dovrebbe, non a parole ma con i fatti, guidare i territori indirizzarne e favorirne lo sviluppo. Di parole in effetti in questi mesi e soprattutto in queste settimane da parte dei diversi rappresentanti della regione Lazio se ne sono sentite e lette tante e sulle più disparate questioni ma di concreto nulla. Ad esempio e restando sulle questioni energetiche la regione e i loro rappresentanti devono ancora chiarire se sono o meno favorevoli alla riconversione a gas di Torre Valdaliga Nord. Sarebbe importante sentirlo dire chiaramente, no? I territori amministrati potrebbero così conoscere finalmente l'orientamento della Pisana che magari potrebbe anche essere confermato attraverso un voto in aula. E ancora. Si parla e spesso tanto della zona logistica semplificata. Se ne parla da tempo ne hanno anche parlato con speranza i rappresentanti di Federlazio e Lega Coop nell'incontro col sindaco tedesco. Se ne parla dandole, magari esagerando, un'importanza fondamentale in funzione del possibile sviluppo del territorio. Ma se non andiamo errati l'iter per la definitiva istituzione della zona logistica semplificata è fermo da tempo. E proprio in regione, perlomeno così sembra. Dunque sarebbe davvero il caso di sentire qualche colpo proveniente da Roma di avere meno chiacchiere inutili e meno inciuci e qualche fatto concreto in più. No? Federlazio e Lega Coop Lazio hanno incontrato a Palazzo del Pincio il sindaco Ernesto Tedesco per discutere della situazione produttiva ed economica del territorio. All'incontro erano presenti inoltre l'assessore con delega ai rapporti con il Consiglio Comunale Sandro De Paulis ed una rappresentanza di imprenditori locali. Nel corso dell'incontro chiesto dalle due associazioni sono state espresse tutte le difficoltà oggettive che il mondo dell'imprenditoria sta attraversando in questa fase peraltro aggravate dall'emergenza epidemiologica. Si è parlato non solo di Enel e dei temi produttivi ed occupazionali legati alla centrale di Torre Valdaliga Nord e dal processo di phase-out dal carbone ma anche della possibilità di nuovo sviluppo in un momento di estrema incertezza quale quello attuale. Il sindaco tedesco e l'assessore De Paulis hanno condiviso la richiesta delle associazioni di avviare da subito azioni concrete volte da una parte a dotarsi di uno strumento come quello dell'area di crisi complessa per avviare e sostenere iniziative che permettano di tutelare produttività ed occupazione dall'altra iniziare a verificare opportunità che fino ad oggi sono rimaste sulla carta come la creazione della zona logistica semplificata in grado di aumentare l'attrattività del territorio e rendere più facili gli investimenti. Ritorno alle gare di serie A1 per la SGIN e per la società di Pierluigi Miranda arriva subito una tappa da non fallire essendo l'ultima prima della Final Six. Domani a Napoli la formazione femminile dei coach Ugolini e Massara cercherà di mantenere la seconda posizione mentre la squadra maschile dei tecnici Rocchini e Pampinella dovrà conquistare la qualificazione alla fase finale visto che al momento è quinta con soli due punti di vantaggio sulla settima posizione. Problemi di formazione per i maschi che dovranno fare a meno sicuramente di l'odaddio e probabilmente anche di tosti per infortunio. Camilla Ugolini ritorna in grande stile per la ginnastica artistica e per la SGIN alle tappe di serie A1 si va a Napoli arrivate con il secondo posto in tasca da difendere in vista della Final Six. Sì, siamo pronti per questo finalmente weekend di ritorno alla serie A e la preparazione è andata bene e adesso non ci resta che dare il meglio e far vedere quanto di buono abbiamo fatto in questi ultimi mesi in cui sì, c'è stato lo stop per il lockdown però poi ci siamo rimessi in pista subito, le ragazze con grande carattere e grande spirito di sacrificio hanno lavorato al meglio e adesso non ci resta che dimostrarlo. Ragazzi sicuramente cariche dopo i risultati dei campionati allieve delle ultime settimane per cui già siete un passo avanti possiamo dire. Ma sì, tornare in gara dopo così tanto tempo non sei mai quello a cui vai incontro e le allieve sono state bravissime hanno portato a termine degli esercizi ben fatti senza errori e sono sicuramente tutte quante un gruppo molto forte che si tira un po' a vicenda quindi siamo orgogliosi di loro e speriamo che mantengano questo passo e ci aspettiamo molto in futuro da loro. La condizione di Napoli è una condizione che torna come prima competizione a testare un prodotto che si è fermato ben sei mesi fa quindi anche di più e non so, sarà un'esperienza ma per tutti abbiamo fatto un passaggio con delle gare nazionali la settimana passata ma chiaramente che ha coinvolto altro materiale umano della federazione quello più giovane quello meno esperto in questa competizione torneranno anche i big e quindi è una vera competizione ma ecco, è da scoprire. Quindi cosa vi aspettate? Si possono centrare questi ploff o questa Final Six? La Final Six è sicuramente alla portata ovviamente non abbiamo Marco e questo per noi è un deficit insormontabile ci ha dato modo di valutare eventualmente anche dei giovani che si stanno affacciando e che quindi almeno hanno avuto la condizione di poter essere impegnati in una competizione di alto livello speriamo perché poi abbiamo perso il ritmo quindi non so adesso anche le altre squadre come si appronteranno abbiamo un problema sugli stranieri che magari non possono arrivare in Italia ed erano gran parte delle società concorrenti noi stessi abbiamo un gruppo che non è al 100% abbiamo perso purtroppo Gian Maria Tosti un incidente nella scorsa competizione insomma una ciaccata alla caviglia e lo tiene fuori dalla competizione anche queste sono condizioni abbastanza importanti quindi speriamo insomma che vadano bene i ragazzi facciano bene il rupertorio e ricominciamo a fare le gare doppio debutto casalingo nel sabato del futsal locale in serie C1 prima gara interna per il Civitavecchia che alle 16.30 ospita al Tamagnini il CCCP la formazione di Simone Tangini vuole conquistare il suo primo successo contro i sovietici che arrivano da una sconfitta casalinga esordio interno anche per la futsal academy in serie C2 alle 15.00 il quintetto di Umberto Di Maio riceverà all'Ivan Lottatori la visita del Ronciglione entrambe le squadre arrivano da un pareggio nel turno d'apertura con i rosso-blu che vogliono vincere per dare subito un messaggio a tutte le dirette concorrenti per i piani alti inizia con una gara in terra romana la serie di trasferte dell'Atletico Tirrena in serie C domani alle 20.00 le giallo-blu andranno a fare visita al Trastevere squadra neopromossa che ritrovano dopo qualche anno una gara da sfruttare per la compagine di Olimpia Santoro che ha l'obiettivo di non stopparsi se vuole restare in vetta alla classifica Continuate a seguirci sui nostri profili social alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it 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 www.trcgiornale.it